Un rider molto spericolato, il protagonista di questa puntata che sta per andare in scena in uno spettacolo davvero molto avviato. Ma come mai hai scelto le quattro ruote? Diciamo che ho iniziato con la moto cross, poi ho fatto una scuola distante e ho preferito spostarmi sul mezzo che usavano poche persone. Quindi ho preferito portare il livello o comunque lo spettacolo su un mezzo che in Italia si vede poco. E ora sei uno dei più forti d'Europa? Io spero che lo dicano gli altri, non lo voglio dire io. I tuoi progetti futuri quali sono? Quest'anno ho portato un nuovo spettacolo che comprende un nuovo pilota, Patrick Mammoli, e ho voluto ancora di più ingrandire lo spettacolo e farlo ancora più estremo. Quindi questa è una professione vera e propria per te? È sei anni che lo faccio e spero di non smettere mai. Il calore che dal pubblico è unico, non puoi. Una volta che entri in un mondo del genere davanti a milioni di persone è indescrivibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.